Ha detto una cosa interessante questo sindaco, ha detto che bisogna che il paese se ne occupi, non è un problema di piombino, è un problema paese. È altrettanto vero che la crisi industriale e occupazionale del paese non si restringe soltanto a quelle aziende che hanno visto un contrasto con le politiche ambientali, quelle aziende che hanno avuto proteste, chiusura dell'alto forno. È un problema generalizzato. La verità è che indipendentemente, guarda, destra, sinistra, alto, basso, non si è mai difeso il nostro mondo produttivo. Noi hanno aperto il mercato a paesi che producono senza rispettare una norma ambientale, lavoro minorile, con tutele del lavoratore stesso inesistenti e quindi costi drammaticamente più bassi. E il nostro sistema produttivo doveva dire benissimo, adeguiamoci. Allora, come abbiamo resistito per degli anni? Con la svalutazione della moneta. Noi esportavamo, eravamo competitivi perché il nostro prodotto venduto all'estero ed anche in altri paesi europei riusciva a reggere tenendo stipendi decorosi perché eravamo competitivi da quel punto di vista. Questo oggi non si può più fare. Come si può fare? Abbassamento delle tasse. L'Europa dice no, non si può abbassare la pressione fiscale e quindi rendere competitiva la nostra merce all'estero perché c'è la politica di rigore, la politica del debito pubblico ed altro. Terzo, è l'unica altra leva e su quale si sta operando, è lo stipendio e i lavoratori. E per rendere competitivi stanno ammazzando il lavoro e stanno ammazzando i lavoratori. Questa è la verità. Se noi non ci vogliamo confrontare con un nostro mercato cannabilizzato, è stato annientato il nostro grande sistema produttivo, è la mia preoccupazione che non sia stato dovuto soltanto a mancanze, ma sia stata una scelta ben congegnata vendere le nostre grandi imprese. Perché guardate, quando da... Voi parlate senza dare un minimo di dati. Benissimo, sono affermazioni generiche, noi abbiamo 800 prodotti nel mondo dove siamo i primi posti come esportatori. Sì, ma cazzola, io ti ricordo... Abbiamo le esportazioni che hanno tenuto su l'economia anche durante la crisi. Benissimo, cazzola, scusami, io ti ricordo che noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. Noi non facciamo soltanto il prodotto agroalimentare di qualità, noi facciamo il manifatturiero, noi facciamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. Scusami, tu sai, i mobili, il mio territorio, il più grande, uno dei, Firenze e Giulia è stato tra i più importanti, ed è tra i più importanti produttori di mobili. Voi sapete che quel settore, tranne aziende che, virtuose, bravissime, che hanno investito in innovazione, che sono all'avanguardia, che stanno resistendo e stanno andando bene. Devi stare nel segmento della ipereccellenza per resistere. Però noi non siamo soltanto l'ipereccellenza. Non è questo, certo, sono d'accordo, questo è il punto, la normalità. Noi siamo il secondo paese manifatturiero, quella sono state annientate, distrutte. Realtà produttive storiche, che erano esempi nel mondo, annientate e distrutte. Allora, chiudo solo, o noi capiamo che non possiamo pensare, e scusate se banalizzo, ma per fare capire, noi non è che possiamo produrre soltanto iPhone ed essere la Silicon Valley, ma noi abbiamo anche quella manifattura, che è quella diffusa, che ha garantito posti di lavoro, che deve essere tutelata e protetta, perché le concorrenze sono favorevole. Ma se concorrenza legittima è concorrenza dove tutti partono dallo stesso nattro di partenza, altrimenti siamo destinati a morire.